Storia, arte, cultura, gastronomia, tutti gli appuntamenti di Weekend da Scoprire. Sabato 11 febbraio a Colleferro alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale Morandi verrà presentato il libro La Resistenza delle Donne di Benedetta Tobagi. Ad Alatri, nell'ambito della rassegna Stasera parliamo di musica, incontri con il compositore Antonio D'Antò, alle 18 presso la Biblioteca Comunale appuntamento con compositori greci ed italiani, Rigato. Domenica 12 febbraio a Frosinone alle 11 si terrà la cerimonia inaugurale del Carnevale Storico di Frosinone 2023 con esibizione del gruppo di danze tradizionali Danza della Terra. A Bovillernica, nell'ambito del programma di eventi musicali, note ed incontri, viaggio musicale nel tempo, alle 18 presso il Museo Civico San Francesco appuntamento con Mozart, uomo genio. Per inviare le vostre segnalazioni scriveteci a weekend-teleuniverso.it